Ma Guardiola, visto che aveva appena eguagliato il record di Messi nel 2012 di gol segnati in una partita di eliminazione diretta, ma non poteva lasciarlo ancora 30-40 minuti? Secondo me ha tolto perché non voleva fare aggiungere il record di Messi. Ah, il suo Messi, il suo pupillo? Sì, sì. Non voleva che battesse Messi, Guardiola? Secondo me sì. Questo che ho letto sulle reti sociali. Le reti sociali. Le reti sociali.